Un centro vaccinale per gli over 80 e non solo a Torre del Greco. La richiesta arriva dal sindacato pensionati della CGL locale, dopo le lamentele e le segnalazioni di familiare e di persone anziane. Dopo la prenotazione sulla apposita piattaforma, gli over 80 sono stati contattati per recarsi ai centri vaccinali di Gragnano e Pollena, con inevitabili disagi logistici e non solo. E' assurdo che una città densamente popolata come Torre del Greco, attaccano i rappresentanti sindacali, non abbia un suo centro vaccinale. Attendiamo risposte dall'ASL. Al momento non è ben chiaro se i locali della Santissima Trinità, individuati dall'amministrazione comunale e concessi all'ASL per la campagna vaccinale, saranno utilizzati anche per gli over 80. Stando a quanto dichiarato dal direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, qualche settimana fa, ai microfoni di TV City, in tempi brevi, locali adiacenti alla Chiesa della Santissima Annunziata, dovevano essere attrezzati per la campagna vaccinale. Faremo partire nei prossimi giorni, dalle prossime settimane, il tempo di procedere ad organizzare subito dopo l'accordo i siti con la presenza dei medici di Medicina Generale, a far partire la campagna vaccinale in maniera più capillare. Naturalmente capite che avere più siti sul territorio, la possibilità di dislocare presso i vari punti geografici di tutta l'azienda sanitaria Napoli 3, vorrà dire una maggiore vicinanza al cittadino, la capacità di avere maggiore forza di erogazione, che magari in questo momento potrà non essere importantissima perché il numero dei vaccini è ancora non altissimo, ma nelle prossime settimane, con l'arrivo di numeri più importanti dei vaccini esistenti e anche degli altri vaccini che sono in fase ultima di autorizzazione, sarà importante avere più dislocazioni possibili. Una situazione denunciata sui social e anche dal Comitato di Quartiere Solidarietà. Costatiamo, ha dichiarato il Presidente Ciro Rutolo, le difficoltà di molti anziani, ovvero 80 di Torre del Greco per raggiungere Gragnano e altri comuni per vaccinarsi. Ho già informato il Sindaco e in queste ore farò presente la situazione al Direttore Sanitario dell'Asla, affinché vengano individuate le migliori soluzioni possibili.